Nome Guido Don Antonio Lini La prima volta a Libri in Festa? Prima volta No Per presentare? Per presentare un po' di libri L'attacchino L'ultimo libro Tre parole per descrivere i Libri in Festa? Un sacco di bambini bellissimo, sono contento In più In Festa Il libro preferito? Il mio libro preferito? 1984 di Orwell Il mio libro preferito è Il prossimo L'autore preferito? Schulz di Finans Quelli che indica Thomas Stern, Idiot Men, women, one cannot hope to emulate Uomini che uno non può sperare di morare Quelli che sono venuti prima di me Che personaggio della letteratura ti piacerebbe essere? Non lo so Non ce n'è Un gnomo sciamano Che nasce le sue sacre ossa Ed è di aiuto alle sue tribù La citazione preferita? Per essere un poeta sono troppo di buon ruolo Un libro da mettere sempre in valigia? Uno di Woody Allen Uno dei tre o quattro libri Di pochi libri che ho scritto Woody Allen Il prossimo che devo leggere Come andavi a scuola? Bellissimo Bene ma senza ammazzarmi di lavoro Un saluto a Libri in Festa? Continuate così e andate avanti Libri in Festa Che la festa continua Un saluto a Libri in Festa